La liquidazione dell'ex direttore generale di Banca Etruria, Luca Bronchi, non sarà sequestrata per intero. Il Tribunale del Riesame di Arezzo ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal PM Andrea Claudiani lo scorso mercoledì contro il provvedimento del GIP Anna Marielo Prete, che aveva sequestrato solamente parte della buona uscita, 470.000 euro circa sui 710.000 euro netti. La Procura aveva invece richiesto il sequestro totale della liquidazione. In sostanza resterà il blocco parziale della buona uscita che il CDA della vecchia Banca Etruria concessa all'ex direttore generale alla conclusione del suo rapporto di lavoro con l'Istituto di Credito Aretino. I giudici del Riesame, Silverio Tafuro, Angela Villa e Lucia Faltoni hanno accolto la linea difensiva di Bronchi rappresentata dall'Avvocato Antonio Bonacci. Secondo l'accusa si era invece trattato di una distrazione delle risorse della banca. Nel calcolare la decurtazione, invece, il GIP era stato di diverso avviso, bloccando solamente 470.000 euro circa sui 710.000 euro netti di buona uscita. Intanto, per quanto riguarda l'inchiesta per truffa aggravata, la Procura di Arezzo ha richiesto informazioni dettagliate sulle emissioni delle obbligazioni subordinate di Banca Etruria alla Consob, con l'obiettivo di chiarire alcuni aspetti tecnici relativi all'inchiesta. Dalla Procura di Arezzo si precisa, però, che non si tratta di una nuova indagine, bensì unicamente di un approfondimento. Per quanto riguarda, invece, i rimborsi agli obbligazionisti azzerati delle quattro banche salvate lo scorso 22 novembre, le Good Bank, rappresentate dal presidente Roberto Nicastro e le associazioni dei consumatori, hanno sottoscritto un verbale di intesa per facilitare così sia il ricorso all'arbitrato che quello al fondo interbancario, che si occuperà del ristoro secondo le modalità previste nel decreto legge sui rimborsi. Le Good Bank, impegnerando o rendono noto, ha la massima disponibilità nel presentare alle associazioni tutte le documentazioni necessarie alla costruzione dei dossier in maniera totalmente gratuita per i risparmiatori.